Passiamo le bande Premio La nostra madrina Il terzo posto Coppa offerta dal comune di Muggia Alla banda della compagnia Trottola Grazie Premio Vedo già con la coppa Il re carnevale Secondo posto Coppa offerta dal comune di Muggia Alla banda della compagnia Muggia Grazie Trofeo Il primo posto Sempre offerto dal comune di Muggia Premio al sindaco Laura Marzi Banda della compagnia Il primo posto Bellezze naturali Banda della compagnia Sono Grazie a voi, soprattutto per il lavoro che ho fatto con i giovani che porto avanti a protezione del carnivale. Grazie a tutti. Grazie. Dovevano aspettare che arrivi il maestro se lui continua a sommarlo, insomma, grazie.